Abbiamo chiesto immediatamente all'amministrazione comunale di essere il più precisi possibile sulle possibili evoluzioni di questo edificio, quindi di capire nel più breve tempo possibile se i lavori di messa in sicurezza possono essere realizzati nel giro di un tempo relativamente breve o se invece occorre pensare a soluzioni più di lungo periodo. È importante per progettare insieme alle famiglie la soluzione più adatta dal punto di vista educativo che tenga conto delle emozioni dei bambini e del loro bisogno di sentirsi sereni e insieme a coloro che sono cresciuti con loro, quindi alle loro maestre e ai loro compagni.